Sì, il costigliolo e il saluzzo. Questi le hanno provato che piove, però le hai bloccate? Eh? Non sono bloccate niente? No, possono anche aprire. Però piove, magari che entra tutta la... Eh, quando smette di piovere, magari... Se smette? Sì, e molla. Di solo che ha pannato, no? Sì, ma si vede uguale, si vede bene uguale, guarda. Qua non è tanto appannato, fortunatamente. Ecco il transito a Costigliole. Mi fa effetto transitare a Costigliole. Qua c'è Monica, la mia insegnante di... Sì, qua Costigliole e saluzzo. Ecco il Varaita. Depuratore di Costigliole. Adesso la stazione. Eccola qua. Inizia a far passare qua che è chiusa. Sa parte chiusa. Costigliole. Per Covid è tutta una scusa. Alla fine. Tutta una scusa. Certo che è una scusa. Perché c'è ancora il post? No. Guarda la... Le nubi da Roscia. Eh sì. La prossima a Verzuolo. Transita a Verzuolo. Qua è preso i temporali qua. Qua sì. Qua è una zona abbastanza presa. Però è una bellissima zona perché vedi sono tutti fruttetti. Da Cuneo fino a... Fino quasi a Savigliano sono quasi tutti fruttetti. Io mi sono fatto un culo lì in mezzo. Per prendermi la patente dell'auto. Verzuolo. Passa anche a Genola? No. Ah. Passa dall'altra parte. Ah no. Se lui fotografa a Genola... C'è, non c'è un video a Genola. Sicuro che non passi a Genola? Passa a Savigliano. Passiamo da Elena. E sono passati i treni storici a Genola. Sì. Sì. Non c'erebbe passare? Il 28 maggio ce n'è un'altra. Passa a Genola? Sì. L'Ormea. Vuoi che guardo se è ancora disponibile? Non si può fare il video. Ma cos'è? Un 28 maggio cos'è? È una domenica. Però bisogna vedere perché se vogliamo andare al mare... Al mare, vero. Al mare. Non si va a Genola. Ma siamo a Verzuolo. Ma non si va a Genola. Ma non si va a Genola. Se per la gente del posto... Troppo. C'è uno che... Se io posso portare mio figlio... Sporcevo almeno... Guarda che è 120 euro. Guarda che è 50 chilometri. Vedi? Non si fa una scassioneva. Ha deciso di fermare anche a Verzuolo. Io che stavo sentando. Non era per... No, Verzuolo no. Ma c'è un incrocio qua. O c'è un incrocio? Ma quella vuoi... Sì. ma non lo so ieri c'era e oggi non so se c'è cantamessa o sale dopo perché la prima carota c'è l'autorità allora sì allora magari a saluzzo magari sale a saluzzo ma infatti avevo sentito che c'era stamattina la prima carota riservata allora sì c'è anche luigi per forza si fa come si può strano che non passa se passi da qua non arrivava valerio da savona cellulosa savona cuneo con carri chiusi poi arrivava le cisterne si a verzuolo ha transitato lentamente 30 all'ora a verzuolo per la prossima che transita in manca io aprirei un po il finestrino però adesso devo capire se piove ancora no forse no forse ha smesso non c'è nessuno che apri il finestrino la ferrovia che non viene diventata e poi c'è la bellissima e poi c'è il colore è finito e poi è finito e passa sulla via se me lo metti a fuoco mi fai un piacere è finito e poi c'è il colore ma qua sembra che abbia già mollato qua siamo a Manta Manta di Saluzzo a Saluzzo sta un po' Manta eccolo qua a Saluzzo sta un po' Manta agli 80 all'ora ha preso un po' di mal di gola adesso arriva a Saluzzo sta fermo 20 minuti a Saluzzo adesso ti passo la brioche così fai colazione però ci sarò un po' di mal di tanto la tempo è un po' di calma è un po' di calma e la pubblica è un po' di calma ma il mio mancino e il mio mancino la pagina marzo anche la basiera che le pensi a poi hanno la a si a la a a a a a a a a mezzogiorno vanno dei suoi a cavalier maggiore vengo a salutarci per le 10 e 10 che poi sta fermo 20 minuti anche lì forse viene anche il sindaco di cavo davide eccola lì saluzzo vedi quella lì sulla collina è saluzzo vecchia ok ma fa il bravo va tutto bene no infatti io l'ho già guardato con gli occhi lupini eh no è a 30 anni eh appunto alla tua età no? si il bambino fallo con marzia è ancora più sul culo che il bambino eh guarda sempre brutto già stamattina guarda brutto vada a fa' culo che era e ringrazio che gli ho fatto venire eh eh dove era la collina di saluzzo? ah ma adesso adesso siamo alla stazione adesso la vedi poi di nuovo qua siamo a saluzzo? si saluzzo che bello solo una volta sono venuta un peccato si col minuetto che era appena la tadella se ben ti ricordi si si 2019 ecco vedi chi è la collina lì dietro i palazzi sono saluzzo voglio prenderla perché prima che la aprano Laura Laura saluzzo la faccia con i cuori fuori dalle ombre anche qua c'è la banda si va bene qua c'è il sindaco di saluzzo ok va bene grazie